Buonasera dal TG6 in apertura andiamo a Chieti a pochi giorni di distanza dalla raccapricciante e aggressione da parte di due cani ad una donna che passeggiava in centro a Chieti con il suo Jack Russell a Guinsaglio ci si interroga sul come poter prevenire altre vittime. Ora è in corso anche una petizione presso gli esercizi del quartiere Filippone per far sì che la morte del cagnolino Amargo non sia stata inutile. Per non ledere la sensibilità degli spettatori abbiamo scelto di non proporvi le cruente immagini dell'accaduto che sono state documentate su Facebook da una vicina rimasta scioccata dall'accaduto. Ce ne parla Serenia Secondi. Un Jack Russell dilaniato da due hamstaff mentre la proprietaria cercava di salvarlo e veniva aggredita a sua volta. E' accaduto tutto in pieno centro a Chieti una settimana fa. Marilena andava a fare i soliti acquisti intorno alle 8 di mattina e passava per la consueta strada che percorreva tutte le mattine via Cutelli in zona Filippone. In pochi secondi ha vissuto un incubo. Purtroppo rivivo costantemente quei momenti drammatici, rivivo le immagini, rivisento i rumori, risento gli odori, risento le grida, risavivo l'impotenza, la mia volontà di salvare e non riuscirci. Un attacco cosiddetto a Tenaglia da parte dei due cani di grossa taglia che nonostante i suoi tentativi le hanno sbranato il Jack Russell Margot che era il guinzaglio. A nulla è servito prendere in mano Margot perché i due Amstaff le hanno strappato alcune dita per sottrarle la cagnetta e dilagnarla. Inutile raccontare l'efferatezza e lo shock di quei momenti. Io ho cercato di difenderla così come avrei difeso i miei figli, così come avrei difeso qualsiasi componente della mia famiglia. Purtroppo lei ci ha rimesso la vita, io ho delle ferite che guariranno, quelle del corpo guariscono, quelle dell'anima ci metteranno tempo. Nessuno potrà restituire a Marilena la piccola Margot che era un cane abituato a relazionarsi anche con i pitbull. Ma gli animali vanno educati e rieducati, bisogna intervenire a monte. Il primo passo è essere consapevoli prima di scegliere un cane. Indipendentemente dalla razza, credo che ogni cane debba seguire un percorso educativo in cui si vada a valorizzare quello che è il cane in quel momento e a portarlo ad essere il più prosociale possibile. Con questi cani che hanno una potenza fisica importante, che hanno delle caratteristiche di razza importanti, che poco si sposano con il quotidiano, cioè con quello che vorremmo fargli vivere a questi cani, ancora di più dobbiamo socializzarli e intraprendere un percorso educativo. Con un percorso educativo non intendo una serie di esercizi e di comandi, ma proprio di intervenire su quella che è la loro caratteristica di base, cercando di non aumentarne il volume, quindi non metto un cane in giardino ad affare la guardia tutto il giorno se voglio che poi non sia un guardiano e se voglio che sia un guardiano deve essere tenuto bene, i cancelli devono essere sempre chiusi e io non posso io, proprietario, abbassare la guardia. Più controlli e un'adeguata riabilitazione dovrebbero esercitare dunque i proprietari di quei cani che possono diventare pericolosi e si è posto di nuovo il problema per l'incolumità dei cittadini. E la cosa che mi terrorizza e mi devasta è pensare che tutti i giorni quella strada era percorsa dai miei figli di 13 e di 10 anni con Margol Guinsaglio. Se fosse successo a loro adesso io piangerei. Una tragedia nella tragedia. Ci occupiamo ora di sanità. Il reparto di medicina dell'ospedale San Massimo di Penne ha temporaneamente sospeso i ricoveri per carenza di personale. Un colpo al dritto alla salute dell'area Vestina, commentato il consigliere regionale Antonio Blasioli. Giuseppe Dintino. Succede all'ospedale San Massimo di Penne che un cartello compare nel pronto soccorso, il cartello è a firma del nuovo direttore della UOC di medicina del reparto di medicina del San Massimo di Penne. Un cartello in cui dice che per la scarsità di medici, quattro sono rimasti, compreso il primario, non è più possibile effettuare turni e quindi non è più possibile garantire ricoveri. Si comunica che è ulteriormente peggiorata la drammatica carenza di personale. E' questo l'incipit del testo firmato dal direttore dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale San Massimo, dove da ieri i ricoveri sono temporaneamente sospesi. E' stato sufficiente un congedo parentale a mandare in tilt l'assistenza sanitaria in reparto che non può più essere garantita 24 ore su 24. Il motivo è che mancano i medici. Un colpo al diritto alla salute di Penne dell'area vestina, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. L'assessore Veri aveva promesso più personale, promessa che non è stata mantenuta. Le parole di Blasioli. Nulla di nuovo, l'avevamo già detto nel corso della visita rispettiva che io avevo svolto nel 2021, nella successiva interpellanza alla quale l'assessore Veri mi rispondeva che sarebbero arrivati 10 medici per medicina a Penne. Sono soltanto 4 con turni massacranti per loro. Sui turni di lavoro lo stesso Blasioli ha richiesto un accesso agli atti alla ASL lo scorso 6 dicembre, a cui però non è ancora giunta risposta. La situazione rischia di ripercuotersi anche sull'ospedale di Pescara, dove l'assistenza ai degenti, in particolare al pronto soccorso, è già complessa. 12 milioni e mezzo di euro sono stati sottratti al nosocomio di Penne per essere spostati su quelli di Avezzano, Vasto e Lanciano, ricorda infine il consigliere del PD. Mentre del bando di gara per la ristrutturazione del San Massimo non c'è alcuna traccia. Ed ora i numeri aggiornati della pandemia nella nostra regione. Sono 1832 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 2985 e tamponi antigenici 9734 è pari al 14,4%. In aumento i ricoveri sia ordinari sia in terapia intensiva. Quattro invece i nuovi decessi. Il bilancio delle vittime sale così a 3217. Gli attualmente positivi sono 57137. 337 pazienti sono ricoverati in area medica, più 10 e 11 sono in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri. Mentre gli altri 56.789 sono in isolamento domiciliare da parte delle ASL. I guariti odierni invece sono 1.011. I nuovi casi accertati nell'ultima settimana sono 13.774. La variazione rispetto a 7 giorni precedenti è pari al meno 7%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti pur restando altissima e lieve, però riduzione. Il dato è ora a 1.079. In testa il Chietino con 1.169, seguito dal Terramano 1.056 e dal Pescarese 1.049 chiude l'Aquilano con 840. Il tasso di occupazione dei posti di attimamento è al 6% per le terapie intensive e al 24% per l'area medica. E noi cambiamo argomento. Mentre prosegue la battaglia dei bagnatori contro la scadenza delle concessioni per il 31 dicembre del 2023, la Regione Abruzzo annuncia il ricorso in Cassazione contro la decisione di ridurre la durata proprio delle concessioni. Paolo Renzetti. La Regione Abruzzo ha fatto ricorso e noi facciamo un plauso alla Regione Abruzzo e che insieme alla nostra cooperativa, così la inquadro, abbiamo fatto anche noi ricorso in Cassazione contro questa sentenza dell'adunanza plenaria che secondo noi è stata scritta una sentenza veramente inquietante, non solo inquietante ma secondo noi ci ha messo la manina una parte del governo. Ci spiace che i provvedimenti legislativi passano attraverso i tribunali, è il Parlamento che deve modificare. Tornando al discorso della concessione, lei mi ha detto 2023, le nostre concessioni, buona parte delle nostre concessioni in Abruzzo scadono il 2033. Qualcuno ci dice che le nostre concessioni non sono valide, veramente noi aspettiamo che qualcuno ce lo dica. La differenza tra noi e chi non ha la concessione rilasciata con la legge fino al 2033, il 1 gennaio 2023, il percorso di un'evidenza pubblica. A questo abbiamo fatto ricorso in Cassazione perché riteniamo che la giurisprudenza è un organo tecnico, ma se la politica fa una legge è dovuta a tutti farla rispettare e non può essere un altro istituto che annulli le leggi. Le leggi le annulla la Corte Costituzionale. Quindi l'adunanza plenaria ha voluto emanare un provvedimento che sta facendo discutere non soltanto i balneari, ma diversi operatori della giurisprudenza. Ovviamente voi andate avanti nella vostra battaglia come balneari di tutta Italia, vi aspettate anche una mossa concreta da parte del Governo nazionale? Noi dal Governo ci aspettiamo poco perché abbiamo visto che il Governo è ostile nei nostri confronti, è molto ostile, ci ha preso anche in giro. Ha mandato dei suoi ministri a parlare in una conferenza stampa dove un disegno di legge era stato concordato al tavolo della concertazione, ma ci siamo accorti che il Governo ha fatto Pinocchio, il Governo ha fatto Draghi e un Pinocchio. Detto questo, questa è una reazione, voglio dire che noi dal Parlamento ci aspettiamo un senso di responsabilità, la smettessero i partiti di venire alle nostre assemblee e gridare che solo dalla nostra parte, perché quelli sono parole, poi devono passare ai fatti. Attualmente nei fatti noi ancora vediamo nulla. La segreteria regionale del sindacato lavoratori della comunicazione della CGL ha denunciato con una nota, la mancata riapertura pomeridiana degli uffici postali di alcuni centri delle aree interne con disagi per l'utenza. Vediamo. Segretario, voi da qualche tempo lamentate mancate riaperture pomeridiane in alcuni uffici postali delle aree interne della nostra regione, tutto questo dopo la fine dell'emergenza sanitaria e dopo due anni di pandemia? Esattamente così, dopo i due anni di pandemia dove abbiamo assistito sul territorio alla chiusura pesante di alcuni presidi sul territorio, ad oggi senza giustificazioni almeno apparenti continuiamo a vedere alcuni uffici che noi definiamo a doppio turno, che facevano un presidio la mattina e il pomeriggio e che operano a orario di lotto. Questo evidentemente non ha una vera e propria giustificazione, o meglio, a giustificazione sicuramente di altra natura, non sicuramente più riconducibile alla situazione sanitaria. Questa situazione crea evidentemente due ordini di problemi. Uno alle collettività, lì dove sono presenti questi uffici, prevalentemente concentrate nelle aree interne della nostra regione, dove abitano, lo ricordiamo, circa il 40% della popolazione, che si aggiunge ovviamente a quelli che sono già i disagi per la mancanza di servizi e di infrastrutture all'interno di queste aree. E l'altra evidentemente, che è quella che più interessa a noi come organizzazione sindacale di categoria, è l'impatto che ha sui lavoratori. Questi lavoratori vengono trasferiti, mandati in trasferta su altri centri, su altri uffici e evidentemente questo mette in luce la mancanza strutturale di presenze sul territorio. Natale, voi avete avuto già diverse interlocuzioni con poste italiane. Quali sono state le risposte che avete avuto? Sostanzialmente la risposta delle direzioni provinciali, quelle che di competenza l'Abruzzo fa perché di Lago e Prescala Teramo, le risposte sono state all'incirca unanime, quelle che comunque di competenza di poste italiane seppia Roma. Loro qui non possono prendere decisioni su uffici aperti o da chiudere. Come diceva prima il segretario, noi siamo fortemente convinti che il problema sia la mancanza di personale, nel senso che poste non ha abbastanza organico per poter tenere aperti tutti questi uffici che attualmente sono chiusi. Non ci diamo altra risposta, se non questa, perché dato anche il fatto che l'emergenza sanitaria si è praticamente conclusa, si dovrebbe tornare a un periodo pre-Covid. Cambiamo di nuovo argomento, le nuove frontiere dell'urologia. Questo è il tema trattato nel convegno organizzato dall'Auro, l'Associazione Urologi Italiani presso la Clinica Villa Serena. Vediamo. I problemi urologici, il trattamento dei pazienti e le nuove frontiere delle cure sono i temi del convegno che si è tenuto presso la Clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo a cura dell'Auro-IT, Associazione degli Urologi Italiani di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Sempre più importante risulta il contributo della tecnologia, della robotica e dell'intelligenza artificiale nella cura dei pazienti affetti da problemi urologici. Oltre a offrire un aggiornamento continuo per quanto riguarda le metodiche sia diagnostiche che terapeutiche della pratica clinica quotidiana, però ha sempre avuto un occhio rivolto verso il futuro. Questa volta in questo, diciamo, nell'ambito del razionale del congresso sono stati inseriti alcuni temi importantissimi a mio avviso. Il primo tema è quello della medicina personalizzata di precisione, che chiaramente è anche traslazionale, che si arricchisce del contributo dell'intelligenza artificiale per supportare in pratica le strategie preventive, la diagnosi, la terapia, la prognosi e anche il follow up. Unitamente anche la riduzione del rischio clinico. L'urologia, un pochettino come tutta la medicina, è in continua, rapida evoluzione. Facendo una battuta si può dire che quello che è attuale oggi poi diventa vecchio domani. e bisogna stare un pochettino dietro a tutte le novità per cercare di offrire sempre il meglio a quello che poi è il paziente, l'utente finale. Sicuramente la tecnologia sta sopravvanzando in tutti i campi della società, non soltanto nella sanità. Il che vuole dire che da noi ci sono strumentazioni nuove, tecnologie nuove che vanno dall'aperfezionamento della robotica, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io stesso presenterò qualcosa sulla realtà aumentata, che sono termini che ancora non sono entrati neanche nel comune sentire del medico, quindi del protagonista principale. Però sono cose che appunto danno un grande vantaggio alla diagnosi e alla terapia del paziente e su cui stiamo discutendo e su cui speriamo di portare dei contributi ognuno. Si intitola L'eutanasia della democrazia, l'ultimo libro scritto da Giuseppe Benedetto, presidente della fondazione Einaudi. Vediamo. Si intitola L'eutanasia della democrazia, l'ultimo libro di Giuseppe Benedetto, presidente della fondazione Luigi Einaudi. Il testo con prefazione di Sabino Cassese individua nell'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i membri del Parlamento, avvenuta sotto l'incessante spinta delle piazze Forcaiole seguite alla stagione politica di Mani Pulite, uno dei passaggi cruciali della nostra democrazia che ha inciso in modo irreversibile sul rapporto tra i poteri dello Stato. In quest'opera, oltre alla fedele esposizione del dibattito parlamentare antecedente alla riforma, vi è anche uno scrupoloso lavoro di ricerca sulle guarantige parlamentari. Quando nacquero, perché e cosa prevedono le costituzioni degli altri paesi occidentali? Domande essenziali per comprendere l'evoluzione della nostra democrazia. È nata sull'onda di un populismo che la fondazione Einaudi ha sempre cercato di contrastare, con tante sue iniziative, quella più nota forse è il referendum contro il taglio dei parlamentari che abbiamo proposto noi e che ha portato un terzo degli italiani a votare no e dunque a capire la nostra battaglia e poi ora sulla provocazione intellettuale dell'articolo 68 che fu profondamente modificato nel 1993. Individuiamo con quella operazione la nascita di un populismo, come dico sempre, allora nascente, poi crescente e oggi speriamo declinante. Libro con una prefazione di altissimo profilo? Come dico io, con una battuta con un giovane ricercatore che diventerà famoso, credo il giurista italiano più importante, Sabino Cassese che poi ci onora anche di sedere nel nostro consiglio di amministrazione e che leggiamo quotidianamente con i suoi splendidi fondi, ad esempio su Corriere della Sera, che sono un punto di riferimento per una cultura liberal democratica in questo paese. Che politica c'è oggi nel nostro paese? C'è la politica che purtroppo è figlia di quegli anni di cui parla il libro, quello che è avvenuto in quella brutta legislatura, pessima 92-94, con una serie di leggi liberticide, le peggiori leggi approvate in questo paese, ha una ricaduta ancora a 30 anni di distanza e questo ci deve fare riflettere. La pagina dello sport, domani alle 16 il Pescara ospita all'Adriatico la Cararese per il primo turno di play-off. Fuori causa frascatore mentre Drudi è recuperato ma non si è allenato a pieno regime in questa settimana. Secondo il tecnico Luciano Zauri la squadra è pronta e confida nel sostegno dei tifosi per superare il turno e fare un cammino importante. Andrea Costantini. Rifinitura all'Adriatico Cornacchia nel pomeriggio per il Pescara, 24 ore dal debutto nei play-off. Domani alle 16 il Defino sfida la Cararese per il primo turno. Subito una gara secca da dentro fuori per calarsi in una realtà nuova con margini di errore prossimi allo zero. Un percorso che ci si auspica possa essere molto lungo anche perché il Pescara, pur in una stagione decisamente al di sotto dell'attese, per Blasone non può essere mera comparsa ma ha il dovere di essere ambizioso. Luciano Zauri alla sua quarta panchina della parentesi 2.0 conferma che la squadra è pronta e non dovrà farsi condizionare dall'opzione del doppio risultato. Pronti assolutamente sì, non possiamo non esserlo. Le difficoltà per noi così come gli altri ovviamente è quello di ottenere il massimo in pochissimo tempo per cui siamo assolutamente pronti, i ragazzi sono andati bene, sono belli carichi. Come gli dico spesso la partita inizia domani alle 16, non oggi, quindi la partita va preparata bene ma mentalmente bisogna arrivarci pronti, non che la partita abbiano già giocata perché ovviamente la pressione è quella che fa parte del nostro mondo ma dobbiamo riuscire a gestirla. È chiaro che 2 su 3 per noi è un piccolo vantaggio ovviamente ma dobbiamo giocare per vincere, non possiamo pensare assolutamente alla gestione, questa squadra non è capace di gestire le partite. Quando ti chiami Pescara la pressione è sempre altissima e deve essere così e noi siamo onorati di portare questo nome quindi noi affrontiamo questi playoff per fare il massimo quindi il Pescara non teme assolutamente nessuno e siamo consapevoli di voler fare dei grandi playoff. Non sarà assolutamente semplice ma abbiamo tutte le armi per poter fare bene. Drudi è recuperato ma come riferito da Zauri non ha svolto la settimana a pieno regime, ecco perché il Lanes è favorito per un posto al fianco di Ingrosso, Zappella e Veroli gli esterni di difesa dal centrocampo in su non ci saranno sorprese, Derisio vertice basso, ai fianchi Pontisso e Pompetti, davanti Dursi, Ferrari e Clemenza. Out frascatore recuperato per la panchina Chiarella. Sul fronte Carrarese indisponibili Imperiale e Figoli, Petrelli, Infantino e Lex Giannetti non al massimo ma a Zauri avverte. Carrarese è una squadra molto interessante, molto ben allenata che interpreta questo modulo che credo sia quello di riferimento con il trequartista e le due punte, è una squadra molto organizzata che non molla e sarà un avversario assolutamente ostico da affrontare. Dobbiamo migliorare tra le muramiche, aggiunge Zauri, conscio che la migliore gara della sua gestione è stata quella di Pistoia, mentre l'Adriatico contro Grosseto e Imolese la squadra ha lasciato a desiderare. Ma giocare in casa deve essere un vantaggio, specie dopo il comunicato dei Rangers pronti a sostenere la squadra. L'apporto dei tifosi è fondamentale per una squadra, è chiaro che la situazione che si è creata nell'ultimo periodo ovviamente non giova alla squadra perché avere una curva che ti sostiene, comunque lo stadio pieno per noi è un valore aggiunto. Il pescare è di pescare. Ci auguriamo di avere più gente possibile allo stadio perché comunque i ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti perché le partite si vincono anche e soprattutto con il sostegno della gente. Bilancio di fine stagione a Teramo anche per il capitano biancorosso Andrea Arrigoni ha la sua miglior stagione in maglia a diavolo al centrocampista, spetta l'analisi dei momenti più complicati dell'annata che ha visto anche la sua crescita a livello di gioco. Vediamo. Uno cerca di lavorare apposta per questo, nel senso che quando si riceve un complimento e si sente la stima un po' in generale sono soddisfazioni. Penso di essere riuscito a trasmettere il giusto e a far vedere anche all'esterno quello che sono io, quello che è la mia persona e quello che sono io in campo, quindi sono soddisfatto di questo. Sono stati, come dicevo prima, dei momenti difficili, dei momenti in cui i riferimenti e comunque la situazione era poco chiara, nel senso che è stato tutto un po' all'improvviso quindi non sapevi bene cosa poteva succedere, quindi sicuramente sono stati dei momenti difficili in cui però bisognava tenere duro, bisognava compattarsi insieme e cercare di non far sbriciolare il tutto. Non è stato facile perché comunque il momento di dicembre è stato difficile anche dal punto di vista dei risultati, è stato difficile anche per quanto riguarda proprio il campo e quindi lì bisognava essere bravi a rimanere compatti, a pensare comunque che c'era un obiettivo che noi dovevamo portare a casa e che quindi in tutti i modi possibili noi dovevamo essere bravi a isolarci e andare avanti. Poi pian piano le cose sono migliorate e noi siamo stati bravi ad andare avanti e anche a correggerci un po' di cose, a riuscire poi a trovare un po' più di continuità nei risultati e a dare un po' lo strappo finale nelle ultime dieci partite. Per raggiungere qualsiasi obiettivo penso che gli ingredienti siano sempre gli stessi, poi è normale che il poter lottare per vincere un campionato è sicuramente bello perché come dicevo prima il ramarico di non aver fatto qualcosa in più c'è perché poi dopo quando tu finisci e vedi che gli altri comunque possono giocarsi play-off e possono giocarsi partite belle perché sono sempre partite belle quelle, un po' di invidia, diciamo così ce l'hai perché comunque vai a giocarti delle partite belle che per un giocatore sono i momenti più belli. Quest'anno il lavoro del mister e il capire il suo calcio mi ha migliorato molto, mi ha tra virgolette fatto capire, mi ha fatto tra virgolette un po' scoprire anche un lato del calcio che magari io ho avuto negli anni passati un po' più di, diciamo un po' meno confidenza nel senso che nel possesso palla quest'anno mi ha servito molto per completarmi come giocatore quindi in questo penso che per me sia stato un anno importante in questo senso. Il volley in A2 femminile, chiusura di stagione amara per l'Altino che dopo la retrocessione nella serie inferiore. L'analisi della stagione è affidata al presidente Aniello Papa al microfono di Sergio Zappalò. Perde 3-0 l'ultimo appuntamento interno all'Altino contro la formazione del Vicenza, era un po' nelle previsioni anche perché le ragazze venete erano motivate. Aniello Papa un'altra giornata storta ma naturalmente tante assenze come si sa e soprattutto una storia infinita di un'annata negativa e anche molto sfortunata. Purtroppo è un anno così, le abbiamo vissute tutte quest'anno quindi per concludere poi altri infortuni, infortuni, infortuni. Mi è andata così purtroppo, è un anno nero e come posso dire? Ne facciamo tesoro e andiamo avanti. Peccato perché è ripartito con tanto entusiasmo Aniello e avevate tra l'altro in corso d'opera avuto la fortuna di incrociare un ottimo allenatore come Colavini, questo l'ha detto, il suo futuro lo sentiremo dalle sue parole, però voglio sentire invece che ne pensi tu di questo mister e soprattutto che programmi hai per il futuro. Ma guarda, per il futuro ad oggi non ti so dire perché sinceramente è inutile nasconderlo, sono delusissimo, non poco ma tanto, tanto perché per tante situazioni che si sono venute a creare. E non solo all'interno della squadra, giusto? Un po' tutto, ma non ne voglio nemmeno parlare perché non mi interessano. Quello che mi fa male è il retrocedere in questo modo, mi fa male perché come ho sempre detto questa non è una squadra che poteva avere zero punti, però è andata così, è arrivato mister Collavini, la squadra ha cambiato volto, che abbiamo dei limiti lo sappiamo, è inutile nasconderlo, però in 9 partite abbiamo fatto 8 punti se non vado aiutato, quindi qualcosa di buono è stato fatto e ho visto anche alcune ragazze giovani che sono cresciute, però il risultato è deludente da 1 a 110, quindi sono delusissimo, è un'annata così e siamo dei processi in malo modo e vediamo quello che succederà nel futuro, ad oggi non ti so dire quello che farò. Per la cronaca c'è ancora la partita di Catania, però chiudo io con una sorta di preghiera a un uomo straordinario come te, fammelo dire perché sei un ottimo Presidente, persona stimatissimo nell'ambito della pallavola, non abbandonare questo carro bellissimo che si chiami Altino, non so che cos'altro possa riservare il futuro, però Aniello Papa deve stare in mezzo alla pallavola abruzzese. Io ti ringrazio per le belle parole, però sai lo sport è una cosa, poi il comportarsi delle persone è un'altra cosa, se questa è la pallavola, quello che ho vissuto quest'anno non è lo sport che fa per me, mi dispiace. Vole di A3 domani alle ore 18, al Pala Iacazzi di Aversa Labba Pineto giocherà contro la squadra di casa per gara 1 della semifinale playoff. Il capitano Lorenzo Calonico è fiducioso e spera che la squadra possa ripetere l'ottima gara 3 di giovedì. Sera, vediamo. Capitano Calonico, venire a pallavola è porta bene, prima di tutto, chiariamo questo concetto. Seconda cosa, 4S, 3 muri, hai fatto di più di solito degli attacchi, cosa che non succede se non di rato. Serata straordinaria, dai. Infatti, come ti avevo detto, in trasmissione ogni partita ha la sua strada, questa era la strada del break, quindi abbiamo concentrato tutto sulla battuta del muro che era quella che un po' ci aveva messo in difficoltà in gara 2. Diciamo che il pubblico ci ha aiutato, è stata una cornice splendida, adesso non abbiamo tantissimo tempo per recuperare perché ovviamente i tempi sono strettissimi, sabato siamo già di partenza e ok, ci organizziamo. Una battuta per l'Ink che appare, come si dice, tutte le porte, l'Ink straordinario ancora una volta. Poi già due partite che lui alza il livello, nei playoff è così, non abbiamo tempo di ragionare, di calcolare, si va a gas aperto dall'inizio alla fine. E questo era il nostro ultimo servizio, tutti quelli che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.